G7, servizio straordinario di controllo del territorio in Ortigia. Agente del volante della costruzione di Siracusa del reparto prevenzione e crimine di Catania insieme al personale della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio concentrandosi nelle vie di accesso all'isola di Ortigia. Sono stati controllati 120 mezzi, identificate 235 persone, elevate 11 sanzioni amministrative per varie infrazioni del codice della strada e quattro veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Tali controlli si innestano nelle misure predisposte in occasione dell'Expoio e del G7 Agricoltura e fanno seguito a quelli già svolti nei giorni precedenti.